Ecco quello che si è visto questa mattina sopra il cielo di Treviso, del passaggio di Mercurio davanti al Sole. La foto, la sola, scattata dal gruppo strofili di Treviso, dalla terrazza del Pio Decimo verso le 14, nell'unico momento in cui si è aperto un varco nel cielo. Se fosse molto più vicino a noi genererebbe un'eclissi, come può fare la Luna. Siccome è più distante, è molto distante, perché distante dal Sole circa 50 milioni di chilometri, da noi, si vede quest'ombra nera piccolina che attraversa il Sole. Incomincia verso le 13 e 12 circa e finisce intorno alle 20 e 42. Noi non possiamo vedere il finale, perché il finale, la fine di questo transito, verrà dopo il tramonto. Il passaggio, una sorta di funzione predittiva dal punto di vista scientifico. È una riprova della meccanica celeste. Ci permette, cioè, di capire esattamente quali che sono gli eventi astronomici, eclissi, transiti, passaggi, occultazioni. Un peccato il cielo oggi fosse coperto da grigie e fosche nuvole. Noi prepariamo il tutto e poi si rannuvola e, come diciamo noi astrofili, arriva la maledizione di Urania. E se con Mercurio è andata a buca, a fine mese ci si può sempre rifare con Marte, Urania premettendo. Il 30 di maggio c'è l'opposizione di Marte. Stando ai calcoli che abbiamo fatto noi, dovrebbe arrivare a circa 0,70 unità astronomiche. Quindi saremo sul 75 milioni di chilometri circa, distante dalla Terra. Non è un'opposizione come qualche anno fa, che arrivò a 60 milioni di chilometri, però sarà sempre un bel vedere.